Questa pioggia non la sopporto, è da stamattina che sta piovendo. Almeno sono quasi arrivato a casa. Eh? Da dove viene questa musica? Non dalle mie cuffie almeno. Ma da dove cavolo sbuca questa nave? Sto forse sognando. Ho bisogno di aiuto. So chi chiamare. In questa coppa crash dobbiamo pure attaccare, vero? Sono bloccato in questo respuglio perché sono atterrata proprio vicino agli nemici. Chi sarà ora? Ragazzi, fa che mi risponda il telefono. Torno subito. Ehi Loris, non sapevi che stavo partecipando ad una coppa crash oggi? Dimmi e fai in fretta, che è un miracolo che riesca a pagare. Stavo andando verso casa per guardare la tua stream da là e farti il tifo. Quando mi sono imbattuto in una pozza d'acqua, indovina un po'? Una nave Schellie è emersa e mi sta attaccando. Eeeh, dai! Hai chiamato solo perché si è rimasto bloccato e la gara una pozza di... Scusa ma sei serio? Com'è possibile avere una Schellie che stelle là? Non chiederlo a me. Io volevo solamente tornare a casa. Purtroppo da qua non posso muovermi. Almeno per una H mezz'oretta. Senti, ho quasi finito. Temi tu qua per favore. Ci provo, ci provo. Solo che sono tipo in dieci e... Ah! Mi hanno colpito la gamba! Che dolore! Ho bisogno di aiuto! Adesso! Adesso! Quelle testi perate me la pagheranno! È cara!